con mister alessandro lucarelli al termine della rifinitura mister che settimana è stata comando dei ragazzi e che gara si aspetta domani ma vedremo domani come è stata la settimana perché poi la domenica chiude tutti i cicli di allenamento e si fa un po il sunto di quello che è stata la settimana comunque ragazzi grande disponibilità grande maturità e domani c'è una partita molto importante perché ci deve essere la conferma dell'atteggiamento della voglia che io ho già ho visto domenica scorsa di reagire a diciamo un primo piccolo evento anche se extra calcistico quindi è importante la partita di domani secondo me affrontiamo la trasferta più difficile del campionato in assoluto perché giochiamo con una squadra che da tanti anni ormai è insieme giocano insieme ma noi dobbiamo fare di tutto per cercare di portare i tre punti sapendo che per loro è fondamentale più di noi nel senso che una loro sconfitta pregiudicherebbe da somma ancora di più l'arrivo di avvicinamento almeno il loro percorso di quello che vorrebbero fare di avvicinamento alla petta con la nostra vittoria invece le cose cambierebbero secondo me quindi è una partita molto molto importante a livello di infermeria ci sono aggiornamenti rispetto a quanto annunciato mattedì ma è più o meno quelli che c'erano già prima stanno cercando di recuperare per mettersi a breve a disposizione quindi dovremmo non dico essere al completo ma quelli che si sono allenati in settimana ci saranno tutti e quindi sarà importante soprattutto come ripeto l'atteggiamento della squadra che dovrà essere un atteggiamento molto molto di concentrazione e attenzione perché loro veramente sono nel loro campo e anche fuori comunque sono una bellissima realtà grazie a tutti grazie a tutti